... ... ... ... Ma che sei scello? Signor Presidente, ma che pazzo? A questo vuole mandare in caderna un'anima innocente, un'anima vimpita pura. Dico, ma qui c'è uno fiduco, qui si fichano fischi per fiaschi, ed io non sono ne un fischio, ne un fiasco. Oh, ma chi ti conosce a te? Chi ti ha mai conosciuto? Ora, silenzio. Ma come, parlate italiano? Sì, signore, signor Presidente, io sono l'italiano. Io sono Antonio Rapuzza, vedo un'ardecchia di acerra. classe 1910, classe di ferro, enzio a Dio ripeto, qui si vuol prendere un equivoco qui un abbaglio, qui si vuol mandare cadere una persona ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza per temere che tu non venissi più ho capito che ti amo guarda chi c'è, niente di rotto spero ci hanno quasi raccini gente che cerca quello che cerchiamo noi allora conviene proteggere Barbeckianne, lo sto interesse giusto, cerchiamo andiamo, su sembrano in molti, capo ancora voi, siamo in pericolo siamo insegure siamo insegure qui c'è, pericolo qui c'è, però si incongrui qui c'è questo il campione e si три non è in questo non è in questo ma non è in questo in questo si chiama Grazie a tutti. Grazie a tutti.